Giovedì 26 maggio scorso il Comune di Pordenone è stato premiato come comune più virtuoso dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, aggiudicandosi l'Energy Awards Friuli Venezia Giulia. Un risultato conseguito grazie alle politiche di efficientamento energetico ed ambientale messe in atto in questi anni. Buone pratiche volte a favorire la riduzione dei consumi di risorse ed energia, contribuendo concretamente alla lotta e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Il Comune di Pordenone si è classificato primo negli Energy Awards che sono stati organizzati dall'Agenzia per l'Energia regionale in collaborazione con la Regione del Friuli Venezia Giulia. Di che cosa si tratta? Si tratta di un premio che a partire dal 2019, sospeso nel 2020 e nel 2021, dà ai comuni riconoscimento per le attività che vengono svolte sul proprio territorio, per l'adattamento al cambiamento climatico, ma soprattutto per gli interventi sull'energia, sia per produrla, sia per consumare meno. E all'ordine del giorno ovviamente è un tema molto caldo. Il Comune di Pordenone quindi si è classificato Comune A++ come le categorie energetiche, facendo un grande salto di qualità. Dal 2019, che era nel gruppo del B++, quindi nel gruppo dei secondi, il balzo in avanti è stato molto alto perché sono tanti i Comuni a partecipare e i criteri sono molto stringenti. Le politiche ambientali comunali non hanno bisogno di filosofia, hanno bisogno di atti concreti. In questi anni il Comune ha messo in campo numerosissimi interventi legati all'efficientamento energetico. Questo significa risparmiare energia e significa soprattutto fare del bene al nostro ambiente, in un momento in cui tra l'altro l'aumento dei costi energetici è all'ordine del giorno, per le famiglie, per le imprese, ma ovviamente anche per gli enti pubblici. È un riconoscimento che quindi gratifica le politiche messe in campo dal Comune e che ci spinge a fare ancora di più. Finanziamente ne abbiamo ricevuti, tutta la politica di costruzione, chiamiamola così, urbanistica e anche edilizia del Comune, sarà improntata esclusivamente all'efficientamento energetico, all'hotel del nostro ambiente e cercare di risparmiare soldi.